Il gruppo Volkswagen sta attraversando una crisi senza precedenti nella sua storia. Secondo il Consiglio di Fabbrica, l'azienda tedesca prevede di chiudere almeno tre dei suoi stabilimenti in Germania a causa della scarsa richiesta di veicoli elettrici, troppo costosi e scomodi per la maggior parte dei consumatori. Questa mancanza di interesse da parte degli acquirenti ha contribuito a una situazione di forte crisi, che potrebbe portare alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Per ora, i dipendenti sono stati avvisati di questi piani in via preliminare, ma il rischio di chiusura incombe su diversi stabilimenti, con Osnabrück particolarmente a rischio. Questa fabbrica, recentemente, ha anche perso un'importante commessa attesa da Porsche, accentuando così il rischio di chiusura. Volkswagen è una delle principali aziende d'Europa, con circa 120.000 dipendenti solo in Germania, la metà dei quali lavora a Wolfsburg. In Germania, Volkswagen opera con 10 stabilimenti, distribuiti in bassa Sassonia, Sassonia e Assia. Ma il futuro di questi impianti è ora incerto. Le difficoltà in cui versa il gruppo sono state rese evidenti anche dalla decisione, presa a settembre, di annullare un programma di tutela occupazionale, che era stato in vigore per oltre tre decenni. Le reazioni sindacali non si sono fatte attendere. IG Metall, il sindacato che rappresenta molti dei dipendenti della Volkswagen, ha criticato aspramente questi piani, definendoli una pugnalata al cuore della forza lavoro e una violazione di principi consolidati. Il responsabile distrettuale di IG Metall, Thorsten Greger, ha dichiarato che tali decisioni sono inaccettabili e rappresentano una frattura rispetto a quanto si è sempre fatto in azienda. Greger ha esortato la Volkswagen a presentare soluzioni realistiche e orientate al futuro al tavolo delle trattative, piuttosto che limitarsi a discutere di riduzioni occupazionali. Ha anche avvertito che, se durante il prossimo incontro contrattuale a Wolfsburg mercoledì Volkswagen non apporterà modifiche significative alle sue proposte, il sindacato non esiterà a prendere provvedimenti. Sul fronte governativo, la questione non è passata inosservata. Il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Wolfgang Bueckner, ha commentato la situazione ricordando che, per ora, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Volkswagen, ma che il governo monitorerà da vicino gli sviluppi. Bueckner ha anche richiamato quanto già dichiarato da Scholz nelle scorse settimane, ossia che le conseguenze di una cattiva gestione non dovrebbero ricadere sui lavoratori e che è necessario tutelare l'occupazione. Volkswagen chiede anche una significativa riduzione del 10% sui salari aziendali e propone una sospensione degli aumenti per i prossimi due anni. Tuttavia, tale richiesta ha incontrato una forte opposizione da parte dei sindacati, che vedono queste misure come un ulteriore attacco ai diritti dei lavoratori in un contesto già segnato da una crisi profonda.